Il balancio a lui ribalta, prova Totti il suggerimento centrale, Montella! Montella! 1-0 ed è un gran gol! Poca giocatore dell'Atalanta, prova ad alzare il braccio, chiedere la posizione irregolare di Montella avremo occasione naturalmente di vedere, è tutto molto bello però una palla straordinaria di Totti a tagliare tutta l'area di rigore In questo momento parte Totti, tocco fuori per Mansini che può anche provare tiro debole però, pallone che arriva ugualmente a Montella, il suo aggancio, si gira col sinistro ed è un gol incredibile, Montella ed è il gol del 2-0 dal numero 14 in campionato, un colpo da biliardo Poca giocatore dell'Atalanta fermo, anche in questa circostanza chiedevano un fuorigioco Montella ha fatto veramente un gol bellissimo, riesce a girarsi molto bene, cerca il pallo lontano, palla raso terra